Buonasera! Allora, ok, no, premetto che non ho scritto nulla, cioè ho registrato solo questo video tipo quattro volte, quindi ho un'idea di cosa voglio dire, ma non ho scritto nulla. Non avrei mai pensato di fare questo video, non dico mai nella vita, ma mai entro la fine del 2022. Ragazzi, nel senso, oggettivamente, e i miei sono testimoni, il mio canale ultimamente, gli ultimi due video, sia a livello di iscritti che a livello di visualizzazioni, di tempo di visualizzazione, tutti i parametri possibili, immaginabili, sta facendo SUUUU! Quindi, no, avrete visto tutti sicuramente che ormai il mio canale ha raggiunto, adesso ho provato i 200 iscritti. Ne sono assolutamente contentissimo e davvero non mi immaginavo i miei, sono testimoni, io molto spesso guardo come va il canale sull'app di YouTube Studio, Io, tipo, spessissimo andavo da mia mamma a dire, mamma, mamma, sto video sta andando, c'è 850 visualizzazioni, non è mai successo prima, ma che è così! Nel senso assoluto non stavano tante, 850 visualizzazioni, 860. Nel senso relativo, nel mio piccolo, 850 qualcosa, 860 visualizzazioni, non le ho mai fatte, 860 il primo, cioè l'ultimo e 800 il secondo, raga, c'è... Capite che questi numeri non li ho mai fatti da giugno fino a, fine novembre non ho pubblicato nulla, quindi i primi due video del mio ritorno mi hanno fatto fare da tipo 170 iscritti a 204, ma così, ma... Raga, davvero, 200 volte, anzi 200.000 volte grazie, io non mi sarei mai aspettato nulla del genere, ma non mi sarei mai aspettato di avere una community del genere, gente che mi scrive su Instagram quando esce un video, raga, suuuu! Questo obiettivo raggiunto, tra virgolette, l'abbiamo raggiunto insieme, nel senso, io faccio i video, ma senza di voi che vi iscrivete, che li guardate e tutto questo, non ci starei, non ci arrivo, nel senso, il mio canale non vivrebbe se no, quindi ci tengo a condividere questi momenti con voi. C'è da dire, e lo dico anche, soprattutto, per chi è nuovo qua sul mio canale, intanto mi presento, sono Jacopo, faccio video sulle mie esperienze, pazze, ovviamente, perché se sono esperienze normali non vanno bene. Iscrivetevi, perché il 94% delle persone che guardano i miei video non è iscritta, quindi se sei qua controlla di essere iscritto, iscriviti, perché per te è gratis, ma per me è un supporto enorme, e soprattutto non ti perdi il prossimo video, che per chi mi segue già sa che è un po' che lo sto preparando, lo sto finendo, manca davvero poco, conto di pubblicarlo sabato, perché poi arriveranno altre cose davvero belle. Volevo solo farvi questo aggiornamento veloce, così, e ringraziarvi davvero ancora per i 200 iscritti. Ma vede, va tu, regalo di Natale incredibile, davvero, e in generale anche per chi mi va al canale, quindi iscriviti se non è ancora fatto, vogliamo arrivare a 300, quindi fallo, per favore, grazie mille. Se lo fai, se è un grande. E niente, noi ci vediamo molto presto in un prossimo incredibile video. Alla prossima. Mi scuso, ovviamente, se questo video non è chissà che, ma ci tenevo comunque a ringraziare tutti con un video e non solo con un post sulla community. Mi svelo la triste verità, l'ho fatto anche perché è videotaparuchi, perché effettivamente sono in ritardo di 45 giorni con il video che doveva uscire dal posto di questo, quindi... Ciao! Ciao!